Allora, se partiamo con il volo delle 10.20 da Malpensa... Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Sono prenotato i biglietti per la finale, no? Per Istanbul! Ragazzi, ormai il mercoledì con il Benfica abbiamo vinto 2 a 0 l'andata la considero una formalità, no? Ma che cazzo stai dicendo? Ma non vedi che in campionato non ne vinciamo mezza? Abbiamo pure perso col mozza, dai! In campionato è un'altra cosa, i ragazzi in Champions cambiano mentalità, switchiano, no? Ma anche in Champions, va che il Benfica gioca a pallone, è ancora tutto aperto! Poi sai noi siamo pazzi, la pazza Inter! Trovato! Partenza 9 giugno e a mezzogiorno siamo ad Istanbul, si torna la sera stessa con la coppa in mano e l'anziamo! Allora, come va la vostra coppetta del giovedì, eh? Che coppetta del giovedì? Guarda che l'Europa League quest'anno è molto più difficile della Champions Ma se giocate contro lo sport in Ghisbona, oh! Ciccio lo sport in Nismore ha eliminato l'Arsenal che è primo in Premier Poi i giochi di giovedì, se è più vicino al weekend, ti stanchi di più L'Europa League è un altro livello, un altro livello Un altro livello Un zag in? Un zag in? Un zag in? Un zag out Un zag in? Spiasse? Non spiasse Ma che un zag in? Ma che un zag in? Super Coppa Italiana vinta Coppa Italia siamo insieme in finale E l'anno scorso, vi ricordo, l'ha vinta Siamo quasi in finale di Champions Ma cosa deve fare in più sto ragazzo qua per essere confermato? Sarà mica sempre colpa del allenatore qua cazzo, eh? Dottore, sono in crisi Mi spieghi meglio? Ho un incubo ricorrente Che l'Inter vinca la Champions Ma si rende conto? Noi trent'anni che proviamo a vincerla E loro la rivincono prima di noi Ma se non hai persa per il culo? Si calmi, si calmi E eliminano pure il Benfica che ci ha eliminato E non sa più come controbattere con loro Ma io so come finirà, vedrà Loro vincono la Champions Noi andiamo in finale d'Europa League La perdiamo E in estate ci mandano pure in Serie B E la volta buona che la faccio fede col calcio Se passiamo col Napoli Se passiamo, eh Perché quelli la torna così, man I semifinali becchiamo voi Euroderby No, 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 per carità Io l'Euroderby non lo regola, te lo dico È vero, guarda Guarda, ti dirò Forse è meglio uscire col Napoli adesso Che con voi in semifinale Ma tanto passate voi C'è tutto deciso Chi è che mandano questa volta ad arbitrare? Leao spacca la bandierina Neanche ha molito Ancora questa bandierina Cos'è che spacca questa volta Leao? Il palo, eh? Ma è chiaro I poteri forti non ci vogliono FIFA UEFA UNICEF Siete delle... Gli autogol Gli autogol Gli autogol Gli autogol Gli autogol Gli autogol Gli autogol